Sento che tutta la città è preoccupata come me e che ha paura. Sembra che non passi notte senza che gli incendiari emettano a segno qualche colpo. Era già una situazione estremamente preoccupante dopo il weekend, tant'è che ieri durante la festa della polizia alla quale ho preso parte a Caltanissetta, il questore Emanuele Ricifari ha avuto parole molto forti nei confronti della situazione che sta vivendo la nostra città. Adesso pare che ci sia la voglia di alzare ulteriormente il tiro. Lo afferma il sindaco di Gela Lucio Greco, dopo l'ennesimo attentato incendiario della notte scorsa alle due vetture dell'autoparco comunale bruciate nei giorni scorsi, si aggiunge quella della consigliera Alessandra Ascia, data alle fiamme in via Dolomiti. Alla consigliera Ascia dichiara il primo cittadino, va tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza, che esprimo anche a nome della Giunta. Il mio ruolo però mi impone di non limitarmi solo alla solidarietà. La relazione della DIA aveva già lasciato presagire scenari inquietanti e per questo ho chiesto la convocazione urgente di un comitato per l'ordine e la sicurezza e il prefetto mi ha già garantito che si farà a breve. Per questo la ringrazio come ringrazio tutti coloro che a vario titolo, dice il sindaco, dalla magistratura alle forze dell'ordine, stanno dimostrando grande attenzione verso questa città che continua a manifestare i segnali di un malessere, di una nuova recrudescenza criminale che ci allarma sotto il profilo della sicurezza pubblica.